Musica Coinvolti in un incidente si sono incendiate, è accaduto questa sera, mercoledì 22 novembre intorno alle 21.30 a due vetture, una Fiat Punto e una Fiat 600, che si sono scontrate sulla strada provinciale 1 di Lanzo, direttissima a Robasso Mero, all'altezza del Bivio Perfiano. Sul posto sono prontamente intervenuti 118 vigili del fuoco di Torino e volontari di Nole. Gli occupanti delle vetture sono riusciti ad uscire dall'auto prima che il principio dell'incendio prendesse vita e si propagasse avvolgendole. Con ogni probabilità è stata la 600 a prendere fuoco, successivamente le fiamme hanno avvolto anche la Punto. Ferito il passeggero che si trovava a bordo della Punto, che da Venaria si stava dirigendo a Ciriè insieme al conducente, e l'uomo che era la guida della 600, che da Ciriè stava andando a Torino. Entrambi trasportati in ospedale non dovrebbero essere in pericolo di vita. La dinamica è il vaglio della polizia stradale di via Avogadro. Grazie a tutti.